Grazie Presidente. 12.1 Colletti contrario, 12.2 Fucci contrario, basta. Basta, Colletti. 12.1 favorevole, 12.2 contrario. Grazie, Governo. Conformi a quelli del relatore di maggioranza. Va bene, allora 12.1 Colletti che chiede di intervenire, prego. Brevemente perché questo articolo in realtà va in conflitto sia con l'articolo 11 sia con l'articolo 8. Con l'articolo 12 si dice che le strutture sanitarie e le assicurazioni devono comunicare al medico che è iniziato un procedimento. In realtà in base all'articolo 11,4 e all'articolo 8,4 queste medesine e strutture assicurazioni non devono comunicare, devono chiamare come terzo nel giudizio il medico perché vi è un obbligo prescritto dalla legge. Quindi non ha senso scrivere questo articolo 12, giacché abbiamo già votato sia l'articolo 8 sia l'articolo 11, perché vanno in conflitto e vi è una palese antinomia normativa. Grazie, non ci sono altri iscritti a parlare. Metto in votazione il 12.1 Colletti, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza e aperta la votazione. Ci siamo? Gadda. È chiusa la votazione, mi dispiace, onorevole Giordano. La Camera respinge, 12.2 Fucci, parere contrario, Commissione e Governo, relatore di minoranza. È aperta la votazione. Occhiuto, Gadda, Palma, Berlinghieri.